Siamo con Massimo Adobati, presidente del Pedale Lecchese, ormai alla vigilia della partecipazione alla Parigi Roubaix, edizione per amatori, sul classico stracciato di quella che è una corsa monumento del ciclismo internazionale. Quanti saranno i lecchesi che con il Pedale Lecchese partecipano a questa classica di gran fondo? Sì, buongiorno, grazie dell'invito. Allora siamo nove partecipanti, tutti dalla società Pedale Lecchese, ci organizziamo in questo modo, la partenza è venerdì, venerdì 3 maggio, il giorno di venerdì servirà per il viaggio, il sabato ci organizzeremo per portare in mezzo all'arrivo, avendo una logistica per cui partenze e arrivo non coincidono, e domenica c'è la competizione. Vi siete preparati con pedalate di allenamento su una distanza impegnativa, su un terreno, di quanti chilometri del pavé, vogliamo ripeterlo, quanti sono i chilometri del tremendo pavé? Allora la gara è di 215 chilometri, i pavé sono più di 20 settori per un totale di 58 chilometri. 58 chilometri sul pavé sono impegnativi? Di questi 58 chilometri ci sono alcuni tratti che sono molto impegnativi, soprattutto perché sono molto sconnessi, dalla famosa foresta di Arenberg e il tratto finale che è il carrefour d'albere e sono tratti veramente impegnativi. Sì, la preparazione è stata fatta, soprattutto sul fondo perché la distanza è notevole. Sarete accompagnati da due pulmini di assistenza, però durante la gara vi sarà l'assistenza tecnica, sanitaria e operativa dell'organizzazione, quindi i pulmini vi attenderanno all'arrivo? Sì, non abbiamo un autista, siamo nove e partecipiamo a tutta la competizione, di conseguenza i pulmini saranno all'arrivo e c'è l'assistenza ufficiale della gara, tecnica, sanitaria, ci sono anche dei punti di ristoro per poter mangiare qualcosa, per poter prendere da bere e diciamo che l'organizzazione è buona. Per quanto riguarda il tracciato, i tratti più impegnativi sono stati già ricordati, quelli del pavé, i resti sono tratti asfaltati, i rimanenti? Sì, i rimanenti sono tutti tratti asfaltati, è una gara prevalentemente piana, il dislivello è poco e la difficoltà sta proprio nel pavé. Il pavé è molto molto sconnesso e obiettivamente fin quando non ci si pedala sopra non ci si rende conto della difficoltà di pedalare sul pavé. Non è la prima volta che i Lecchiesi partecipano a questa edizione amatoriale della Paris-Giroubaix? No, come Pedale Lecchiesi è la sesta volta, se non ricordo male. Io ho già partecipato un'altra volta, poi abbiamo anche dei veterani come Colombo Silvano, che è il nostro tesserato, questa è la sesta partecipazione per lui. Abbiamo partecipato altre volte, sì. Quindi ricordiamo, partenza all'antivigilia e poi la partenza invece della gara vera e propria avrà luogo Parigi, Roubaix, a che ora da Parigi? Allora la partenza è alle 6.30 di mattino, la partenza non è da Parigi, si chiama Parigi-Roubaix, ma neanche più i professionisti partono da Parigi, ma partiamo dalla periferia di Parigi, è una zona vicino a San Quentin ed è alle 6.30. I tempi di percorrenza dovremmo essere circa intorno alle 8-9 ore. Voi come Pedale Lecchiese correrete in gruppo o durante la gara avrete modo di sciogliervi e di essere nelle... perché i partecipanti quanti sono? Siamo i partecipanti totali? Sì. I partecipanti totali dovrebbero essere circa 500. L'intenzione è noi di fare gruppo o eventualmente dividerci in due gruppi, tra i più veloci e i più lenti. Se è possibile, se riusciamo a rimanere tutti uniti, è tanto meglio, è più godibile farla in compagnia. E se c'è una tabella di marcia, pensate di arrivare con quale tempo? Ma il tempo di percorrenza dovrebbe oscillare intorno alle 9 ore circa, la previsione. Poi bisogna vedere anche il tempo perché non è certo che non piova. Se dovesse piovere le difficoltà aumentano. Sarà impegnativo il tracciato che già di per sé stesso è impegnativo. Parteciperanno a questa revival della Parigi-Roubaix anche i vecchi, tra virgolette, assi del pedale? Sì, allora tra i vecchi assi del pedale non c'è nessuno, tra i soci fondatori non c'è nessuno, però abbiamo anche tesserati di lungo corso che sono tesserati da più di 20 anni. Il pedale c'è da dire che ha ormai quasi 50 anni di storia. Il cinquantesimo lo festeggieremo nell'anno 2016, siamo prossimi a festeggiare il cinquantesimo. Vogliamo ricordare in conclusione dove si può incontrare il pedale Lechese, in quale sede, in quale ambiente, in quale momento? Allora, come ritrovo, noi abbiamo il circolo parrocchiale di Maggianico in via Zeglioli, con cadenza quindicinale. Per contattarci abbiamo un indirizzo mail, se qualcuno è interessato a tesserarsi con noi o vuol sapere i punti d'incontro quando ci troviamo, può scrivere una mail a pedalelechesechiocciolagmail.com Grazie.